Si sono conclusi a Manopello i festeggiamenti in onore del Volto Santo con un programma in cui si sono alternati momenti di preghiera e di incontri pubblici che hanno portato in città noti studiosi del Sacro Velo. In diretta su Reteotto questa mattina si è tenuta la solenne celebrazione dell'Eucarestia presieduta da Monsignor Mauro Lalli, nunzio apostolico in Papua Nuova Guinea. La festa del Volto Santo è stata anche un'occasione per celebrare con il convegno di studi sotto lo sguardo di Cristo verso il Giubileo i 25 anni dall'identificazione del Volto Santo di Manopello con la veronica romana.